Parlando di eruzioni vulcaniche, vengono subito alla mente immagini di improvvise e violente esplosioni. Ma un'eruzione può anche essere continua, lenta e placida come lo scorrere di un fiume. Questo è esattamente quanto accade nelle isole Hawaii. L'esplosività di un vulcano è strettamente correlata alla natura del magma. Maggiori sono la viscosità e il contenuto in gas, soprattutto vapore e acqueo, maggiore sarà la carica esplosiva del vulcano. Purtroppo classificare le eruzioni in base al tipo di magma non è cosa semplice. Infatti sappiamo che la viscosità è alta nei magmi acidi ed è bassa in quelli basici. Invece la quantità di gas e vapore acqueo è molto variabile in entrambi. Quindi tra l'attività effusiva e quella esplosiva esistono molte combinazioni intermedie. Vediamole una alla volta. L'attività effusiva dominante è caratterizzata da magmi molto fluidi che effondono senza impedimenti, come nelle eruzioni di tipo hawaiiano e di tipo islandese. Le prime producono ampi edifici a scudo con una caldera sommitale, mentre le seconde si verificano lungo immense fessure aperte nella crosta terrestre, senza un edificio vero e proprio. L'attività effusiva prevalente è tipica dei magmi mediamente fluidi e si verifica nelle eruzioni di tipo stromboliano. La lava ristagna periodicamente nel cratere e si solidifica formando una crosta. Nell'arco di poche ore o minuti, la pressione dei gas intrappolati al suo interno supera la resistenza della crosta stessa e questa si frantuma con modeste esplosioni. L'attività mista effusiva esplosiva, caratteristica dei magmi viscosi e ricchi di acqua e gas, è tipica delle eruzioni di tipo vulcaniano, pliniano e peleano. Il meccanismo di eruzione vulcaniano è del tutto simile a quello stromboliano, ma le fasi parossistiche sono violente e avvengono a grande distanza di tempo l'una dall'altra. Infatti, l'elevata viscosità del magma rallenta alla liberazione dei gas, che però, in quantità maggiore, hanno un effetto esplosivo dirompente. Le eruzioni pliniane, come quella del Vesuvio avvenuta nel 79 d.C., sono ancora più violente. Il magma, ricco in gas, risale così energicamente da poter essere sparato fino a 30 km di altezza, in forma di minute goccioline. Quando l'energia dell'esplosione diminuisce, la nube si espande lateralmente e al suolo ricadono frammenti di lava vetrificata. Questa fotosequenza ritrae un'eruzione di tipo peleano. Il magma delle eruzioni di tipo peleano è altamente viscoso e quando raggiunge la superficie è già quasi completamente solidificato e forma cupole o torri alte alcune centinaia di metri. Come il vapore di una gigantesca pentola a pressione, dalla base delle cupole si espandono roventi nubi di gas e vapori, a gran velocità e per lunghe distanze. L'attività solo esplosiva si verifica quando il magma e l'acqua, generalmente di una falda freatica, interagiscono tra di loro, ed è tipica del vulcanismo idromagmatico. In questi casi si formano grandi quantità di vapore a elevatissima pressione, che fratturano la roccia e risalgono in superficie. Qui, mancando la resistenza offerta dalle pareti del condotto di risalita, i vapori si espandono in onde d'urto concentriche, trasportando anche frammenti rocciosi a velocità che superano i 150 km orari. Abbiamo scoperto che le eruzioni sono diverse nei meccanismi e nelle intensità. Non solo, si è scoperto che l'attività di uno stesso vulcano può manifestarsi in modi diversi a distanza di tempo. Ma ogni eruzione, in un modo o in un altro, lascia le sue tracce. Il profilo dell'isola Hawaii, ad esempio, viene modificato ininterrottamente dal 1983, anno in cui è ricominciata l'attività effusiva del Kilauea. Se ci spostiamo in Islanda, troviamo i plateau con gli espandimenti lavici prodotti da eruzioni fissurali, iniziate molti milioni di anni fa e in continua ripetizione nel tempo, anche oggi. Ma i paesaggi non sono gli unici a subire le conseguenze delle eruzioni. L'eruzione di Santorini del 1410 a.C. ha ridotto l'isola omonima a pochi lembi di terra e ha spazzato via l'intera civiltà minoica. Nel 1985 l'eruzione del Nevado del Ruiz ha causato una valanga di fango che ha travolto e ucciso quasi 30.000 persone. Questi sono solo alcuni esempi, ma testimoniano quanto sia importante la conoscenza dettagliata della storia di un vulcano. Studiarne i comportamenti, infatti, è la sola strada che consente di pianificare tutti gli interventi necessari alla salvaguardia di ognuno di noi. Grazie.